Direi che il pubblico ha risposto molto bene, quindi questa è la vera prova del risultato di questa esperienza. Per noi è il sesto anno, per Livigno il primo, però primo di una lunga serie, quindi non finisce qui. È un segnale anche di una relazione tra due territori apparentemente molto differenti e molto distanti? Allora, Bormio e Livigno si sono dichiarati già l'anno scorso di voler lavorare insieme e questa è proprio la prova provata che lo stiamo facendo. La milanesiana in campo culturale è un evento molto importante e abbiamo voluto condividerlo e ci è sembrato un buon inizio. Poi abbiamo anche altri progetti in pista, in campo turistico, in campo di comunicazione, il vento olimpico ci accomuna, quindi direi che avremo modo di parlarne più avanti. Devo ringraziare il comune di Bormio, qui Livigno era indietro rispetto a loro, nel senso come diceva Silvia, sei volte loro hanno ospitato questo grande evento, noi la prima volta. Però ci tenevamo a far capire che Livigno non è solo sport, non è solo turismo, ma è cultura. La milanesiana ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto vedere la località in maniera diversa, ci ha dato un punto di riferimento e anche un punto di vista diverso rispetto a quello che di solito viene percepito dalla nostra località. Quindi grazie davvero a tutti quelli che si sono fatti trasportare da queste grandi serate, da queste tre serate ed è stato davvero emozionante, un grazie particolare al mio sessore Sharon Zini che ha seguito davvero bene tutto. E come si diceva prima, Livigno e Bormio se vorranno restare competitivi avranno solo un fattore da seguire, quello di lavorare assieme. Sul palco una donna molto forte, capace, intelligente, coraggiosa che ha lanciato un messaggio importante. Sto pensando agli ospiti che hanno parlato, però devo confessare che la prima donna a cui ho pensato quando mi hai detto questo è Paola Romerio Bonazzi, perché se non fosse stato per lei, noi abbiamo iniziato sei anni fa insieme questa avventura nel 2017 con il Rotary Club Bormio Contea e poi l'abbiamo portata avanti e direi che la prima donna che mi è venuta in mente è lei. Poi ne abbiamo, sì, avute tante di donne sul palco, abbiamo parlato proprio anche del ruolo della donna in questo mondo moderno e nel mondo dell'economia, nel mondo dell'impresa che a volte è un po' difficile per ruolo femminile. Poi abbiamo una donna per eccellenza che è Elisabetta Sgarbi che è la mente di tutto questo.